Il tuo benessere dipende da te, bello a dirsi, un po' più difficile a farsi. E avete ragione, avete ragione perché di fatto tante volte anche il messaggio che porto in questa maglietta viene frainteso, no excuses, la tua felicità dipende da te, prenditi la responsabilità della tua vita. Tante volte sembra che io voglio mandare un messaggio che in qualche modo vada oltre la realtà, fa parte di una scelta, la scelta di essere disposto a tutto per seguire le mie passioni. Perché le paure fanno parte dell'essere umano. E tutte queste paure dei miei genitori chiaramente hanno condizionato anche me. E mi hanno condizionato perché cosa succede quando fai di tutto per dimostrare qualcosa agli altri? Succede che perdi di vista ciò che senti, ciò che sei e ciò che vuoi. Perché sei così focalizzato su ciò che gli altri si aspettano da te, che non riesci più ad ascoltare ciò che tu desideri veramente. Le nostre prestazioni dipendono dalle nostre azioni, che dipendono dalle nostre emozioni, che dipendono da ciò che noi crediamo di ciò che stiamo vivendo, su ciò che stiamo vivendo. Ripeto, i nostri risultati, le nostre prestazioni dipendono da ciò che facciamo. Che dipende da come ci sentiamo. Che dipende da come ci vediamo di fronte a una situazione. Ho imparato una delle lezioni più importanti della mia vita, che spero che voi vi portiate per sempre nel cuore. Ciao ragazzi, questo è Mappac. Dopo aver esitato per molto tempo, se fare o meno questo video, sono stato ispirato da Max, The Handless Gamer. E finalmente condividerò una cosa con voi. Vi ho detto in precedenza che quando gioco uno svantaggio, e non vi ho mai detto quale sia. Così, adesso ve lo mostro. Fondamentalmente sono nato così e la mia mano sinistra ha solo tre dita. Questo è un ragazzo che aveva un canale YouTube da anni e che per anni non aveva mai mostrato il suo corpo, oltre al suo viso. La lezione che ho imparato è che ciò che ci fa fare la differenza come esseri umani non è ciò che cerchiamo di dimostrare di essere, fare o avere in più rispetto agli altri. Perché io stavo facendo di tutto per cercare di essere accettato, per dimostrare agli altri di essere più bravo, di essere più forte, di avere alti voti, di essere un supereroe, di non stare mai male. Ma la verità è che ciò che ci fa fare davvero la differenza come esseri umani non è ciò che facciamo in più, abbiamo in più o siamo in più rispetto agli altri, ma è ciò che siamo, facciamo e abbiamo per gli altri. Perché la verità è che fino a quando senti il bisogno di dimostrare agli altri di essere, fare o avere di più, significa che nel profondo del tuo cuore tu senti di valere meno. Perché fino a quando sentiamo il bisogno di dimostrare agli altri di essere delle persone che non piangono mai, che non soffrono mai, che sono sempre all'altezza delle aspettative, significa che non ci siamo ancora dati il permesso di accogliere anche le nostre fragilità. E il problema è che fino a quando non siamo in grado di accogliere quell'altra parte di noi, non sprigioneremo mai il nostro reale potenziale. Perché noi spesso cerchiamo di attirare l'attenzione per ciò che facciamo e di farci apprezzare per ciò che facciamo, non per ciò che siamo. Ma se non facciamo vedere tutti gli aspetti di noi, come fanno gli altri a capirci, ad aiutarci, a supportarci, a starci a fianco? Non importa qual è la tua situazione di partenza, non importa se sei nato in un paese povero, se hai le difficoltà che hai avuto in famiglia, non importa se sei nato in un corpo come questo, non importa. ciò che importa davvero è cosa decidi di farne. È il significato che scegli di dare a ciò che hai vissuto. E qui ho cambiato una domanda depotenziante, trasformandola in una delle più grandi risorse e in uno dei più grandi strumenti che tuttora mi permettono di migliorare la mia vita e di rialzarmi nei momenti di difficoltà. Vi siete mai chiesti perché a me? Me lo sono chiesto tante volte. Fino a quando non ho capito che il perché a me, però, mi metteva in una situazione, in una posizione di vittima. Perché a me? E chi ti risponde? Va mai risposto nessuno? Mai! È l'unica domanda, forse senza risposta, perché a me? E allora ho deciso di cambiarla. Un coach, d'altronde, deve essere bravo a fare domande potenzianti. E mi sono chiesto, se avessi costruito io questa situazione, se avessi scelto io di vivere questa situazione, per quale motivo lo avrei scelto? Non è più perché a me, perché perché a me non dipende da me, ma se lo avessi scelto io, se avessi scelto io questo corpo, se avessi scelto io questa disabilità, se avessi scelto io la separazione dei miei genitori, se avessi scelto io gli attacchi di panico, se avessi scelto io la sofferenza che ho vissuto, per quale motivo l'avrei scelta? Vuol dire cosa posso imparare? Vuol dire che non la spreco quella sofferenza, non che la cerco, ma già che c'è, non la spreco. A me piace vedere la vita esattamente così. C'è un ostacolo? Tante volte l'ostacolo sembra più grande delle risorse che abbiamo a disposizione, sembra più grande di noi. E' lì che si nasconde il dono. Perché se noi crediamo che ci sia qualcosa di più grande di noi, vuol dire che ancora non ci siamo resi conto di quanto possiamo essere potenti. Vuol dire che ancora non ci siamo resi conto del potenziale nascosto dentro ognuno di noi. Quando scegli di dare un significato a tutto ciò che vivi, succede una magia. La mia magia è stata il fatto di decidere di fare streaming, decidere di aiutare tante persone a iniziare a credere in se stesse. Io credo che il motivo per il quale tante volte non viviamo una vita davvero allineata a ciò che desideriamo è perché abbiamo paura di chi possiamo essere davvero. Grazie.